Francesco, speaker di Ciao Comoradio, ogni mattina intrattene gli ascoltatori con la sua energia e simpatia. Nessuno potrebbe pensare che in realtà c'è qualcosa che lo inquieta. Finita la giornata lavorativa, Francesco si ritrova a casa ad affrontare il problema dei capelli, provando le soluzioni più disparate e improbabili. Terra! Uova, tonno! Così, sperando che funzioni, non ne posso più davvero ragazzi. Come cavolo? Tonno, un uovo, sale, pepe, questo è il rimedio che dicono che funziona. Speriamo. Adesso devo lasciare agire per due ore e poi vediamo il risultato. Proviamo una crema, questa dicono che funziona, speriamo. Non ce la faccio più. Francesco non ne può più. Non ne posso più. Non ce la faccio più. Guarda qua. Non so più come fare, non so più cosa trovare. Ma basta! Non ne posso più! Ad un certo punto, guardando la tv, rimane folgorato dalla pubblicità di CR Lab. In Italia ci sono milioni di donne e milioni di uomini che soffrono di perdita di capelli. Ma ci sono donne e uomini che hanno avuto il coraggio di cercare una soluzione e l'hanno trovata. Sistema CNC. Capelli naturali a contatto, brevettato, affidabile, dermatologicamente testato. I capelli trasformano la vita. Vai sul sito o vieni al centro più vicino. Ecco la soluzione, eccola!